Abbiamo avviato una grandissima rivoluzione green verso la green economy, ma pensando al tema dell'energia, abbiamo avviato un programma che ha riguardato 106 comuni della Sardegna, che ha dato la possibilità a questi 106 comuni di approvare il piano di azione per l'energia sostenibile per realizzare nei territori degli impianti per la produzione di energia da fonti alternative, per consentire in questo modo che i benefici vadano a quei territori che vada da battersi il costo della bolletta energetica dei cittadini. Sono 106 comuni e sono solo i primi perché noi nei prossimi 5 anni porteremo il programma a tutti e 377 comuni e in questi 106 comuni stiamo dando risposte a oltre 400.000 abitanti, a oltre 400.000 affermi. Grazie a tutti.